Dei pro player Andiamo avanti Ok Andiamo avanti prendiamo qua Notte notte quala Ciao quala Ma Dark mi ha risposto sul gruppo delegramma o no? Ah ok ma mi ha risposto adesso Sta rispondendo ok Andiamo un po' Qualcuno si è svegliato male qua? Che cazzo è? Orco diavolo Stai a russare come la madonna Stai a russare Allora qua io posso saltare sopra qui? In teoria si si può saltare sopra qua Ah qua Da qua si riesce Da qua si riesce voglio Eh diglielo diglielo Un bel torneo Quando fa un torneo della community Io partecipo Cioè mi piacerebbe partecipare Eh glielo avevo chiesto Se me lo faceva sapere Non mi ha fatto sapere niente So cojone? So cojone? Da qua! No te prego Ma io posso sto sempre a salvare ogni volta Che palle dio Ma posso sto sempre a salvare io Dio Cristo Dio Ma io non posso salvare la roba Cioè porca di quella Eva Dio santo Dio della madonna Su Oh namo dritto poi dritto Andando mo ci sta quello che russa Ma io perché me lo sto esplorando Lo sto giocando piano piano Quindi per quello Ah no Che ogni tanto ti vedo in difficoltà No 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 Che in difficoltà la madonna Per me i salvataggi non dovevano Non dovevano Non dovevano essere infiniti No no I salvataggi infiniti certo Perché se no Tipo per livello Non lo so Tu dici che non dovevano essere infiniti? Ma secondo me erano gli infiniti pure prima Non è che cambia qualcosa Cioè Poi dipende se uno vuole fare la run Proprio quella Estrema Se mette dei Oddio Porello Vero Ancora sospeso E' vero Niente Qua per andarla sopra Ma ce devo andare per forza sopra Perché io qua non so dove devo andare Capito? Quello il fatto Mi sa che sopra c'è bisogno di andare Sì sì Mi sa che è fondamentale andare sopra Oh Zitti zitti Non ci arrivo da qua Niente quello mi sa che devo ucciderlo per forza così Da pc Da pc da pc Da pc da pc Eh da qua per forza bisogna andare qua Da qua per forza ma non so che cazzo ci sta qua Ah spero 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 che è qua? Una chiave che cazzo è? Ma che è sto bucio? Non si vede Ah ok E' tipo Ho capito Ho capito Devo tipo No No non ho capito Non ho capito che cazzo è Ma in teoria dovrebbe essere tipo Una cosa Eh qua devo stare attento perché Se no qua si scivola Eccola là Proprio quello che non doveva succedere Ciao che ne so Ciao bello Allora qua io penso che Porco dio è Oh la figa della madonna Che è la figa di mamma da La grande sbocchinaccia della madonna Ma chi cazzo era? Ma chi cazzo è? Lo fregno de dio Fregnone della madonna Corri che questo ti spara Te piga Te chiappa Te fa le madonna Te fa Ancora che sta a cagare la madonna Vaffanculo Cagame il cazzo Non me cagare i coglioni E' su de merda Allora qua Andiamo un attimo a esplorare Qua durante dentro la mappa Qua Che è qua dietro? Ma qua c'è tipo una roba Che cazzo è? Che è qua? Non ho capito Ok Che è qua? Questa qua è una porta Che va aperta con una leva Non lo so O una leva O quello che cazzo è Il telegram Ok È urgente Il signor Cusi Allora qua cazzo è Allora qua cazzo è Momento eh Allora qua cazzo è 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche fossero due persone, comunque... Un attimo solo, ma il prossimo te leggo un attimo, sto vedendo un'ottima cosa. Grazie a tutti. No, no, è proprio... è tutto sbagliato. Tutto, tutto, tutto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Babbo, io sto in live, non riesco a leggere, per favore, senti... Ehm... Cioè, poi pensa tu, per favore, che veramente, guarda... Sì, lo so, lo so, però... Adesso, ho bisogno di fare questa cosa. Me la organizzi tu, ci pensi tu, ci pensi tu, per favore, perché guarda... Mi sto veramente a incazzare come una bestia, mi sto a incazzare... Dai, ciao... Allora... Ricominciamo... Allora... Ricominciamo da capo. Che cazzo sto fatto? Allora... Eccoci qua, ci siamo. Abbiamo fatto un po' di... un paio di passi, abbiamo sconfitto il mostro lì, belli precisi... E... Andiamo avanti, andiamo avanti... Allora, qua ci abbiamo, praticamente... Ciao, Quizzi, sto bene, sto bene... Ciao, Quizzi... Allora, qua ci sta praticamente una... Che cazzo è questa qua? Che è una faraona? Una sfinge? Che cazzo è? Che roba è questa? Ah... Ma questa è una sf... Una bella faraona, questa! Una faraona... Ma che c'era tipo un petto di pollo che si chiamava faraona? Non mi ricordo che cazzo era, tipo... Una faraona, un petto di pollo... Che devo andare sopra? Sicuramente ci sarà qualche passaggio segreto sopra, non lo so... Sicuro, 100% Sennò di qua non c'era niente, di qua... Di qua non c'è niente, da quello che mi ricordo io... Una sfinge, eh, una sfinge! Una sfinge, come lo sfindere! Ah, che è? Un'altra porta qua! Qua ci sta un'altra porta, ok... Eh, perché dopo... Metti caso che dopo mi tocca rifare tutto da capo che... Ok... Qua c'è un'altra porta... Qua non va da nessuna parte... Vabbè... Andiamo avanti... Andiamo quindi là sopra, vediamo un po'... Che roba... Pur... Codemonio... Haha... Mamma mia, di campanelli cinesi mi vuoi fanno usare... Porca troia... Perché non ti rimagni tu... Comunque, Quizzi, adesso ci sarà... Un bel torneo di Marvel Snap farò... Tu ci stai? Sì... O no? Niente, da qua non se va... Cioè, io non è che sto scemo, però... Da qua non se va, no? Però da lì vado... Tic, 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 tic... Da qua a sinistra, qua... Da qua se va, però, no? Ma già arrivo qua? Ma con il cazzo che ti si ingula... Qua non se passa... Oddio, è vero... Grazie mille, Mario Sbrosso... Scusami, è vero... Grazie, grazie mille... Mamma mia, se non ci fosse state voi... Grazie mille, Mario Sbrosso... Grazie mille, bellissimo... Grazie... Adoro come lo porti... Oltre che farmi sorridere... Mi riporti indietro con il tempo... Marta00... Grazie mille... Ma chi è Marta... No, ha cambiato nome... No, no, non ha cambiato nome... È lei, è lei... Grazie, Marta00... Te voglio bene, grazie... Un bacione... Mua... Grazie... Grazie mille anche il Jolly... 25 mesi di resab... Per Jolly... Grazie mille... Che ne so... Grazie mille... Grazie mille Mario Sbrosso... 28 mesi di resab... Grazie mille... Ricordati... Ci sono sempre... Anche se non ci scrivo però... Ma per ora... Sono senza lavoro... Per il contributo... C'è sempre... Te voglio bene... Grazie mille Mario Sbrosso... Come mai hai perso lavoro? Mi dispiace, cazzo... Mi dispiace... Perder lavoro... Credo che sia una cosa... La cosa più brutta che ci sia... Cazzo... Andiamo, andiamo... Da qua a metà... Carcazzo... Qua devo andare dritto... Là... Giusto? Ok... Un bello sarto... Come se deve... Poi... Andiamo qua sopra... Vuoi pecorizzare Lara? Ehi... Tu ci sta una leva... Ehi... Lo sapevo... Là ci sta una leva... Ok... Il problema è capire come ci si arriva... Giusto? Poi ho visto tutti quegli streamer lì... Precisi... Eh... Grazie lui cazzo... Se ti vedi le soluzioni... O se già l'hai finito Tomb Raider... Grazie lui cazzo che lo finisci in due ore... Porca troia... Eh... Stanno certi... Ho... Ho dominato Tomb Raider... E grazie lui cazzo... L'avrei platinato... Quando... Quando eri giovane... L'avrei platinato... Cazzo... È normale che... Che lo domini... Eh... Io che non ho mai giocato... È normale... Infatti io stavo lì... Stavo a dire... Ma questo come fa a sapere tutte queste cose? Eh... Qui andiamo qui... Ah no... Qui era... Ah... Qui così... Cioè... Andava spedito... Sapeva già i punti proprio... Non c'era un minimo di ragionamento... Di niente... Quindi qua è dritto per dritto... Ok... Di là... Beh... Io ragazzi... Qua... Io me lo sto godendo il gioco... Salviamo? O no? Meglio salvare dite? Qua è un bel salto lungo... Dovrebbe essere in teoria... Salviamo non serve niente... Dai... Salviamo che è meglio dai... Qua stiamo... Tanto c'è... Penso di essere io... Che so... Bello particolare... Come persona... GG... Madonna... Madonna... Guarda là... Quante piattaforme ci stanno... Bene... Sì... Ma scusami... Là che cazzo è? Che c'è il porco dio? L'uccellaccio... Dalla madonna... ah ma c'è stanno pure i lucellacci e mo che rompono i cojoni prima erano i scheritri e mo i lucellacci quelli super potenziati c'è stanno lucellacci di rumalagurio qua è impossibile ok a buccio di curo ce l'ho fatta comunque piano piano stiamo prendendo in mano eh e come no eh il problema il problema è che non mi piace a me in vero mi fa schifo mi fa cagà il problema è quello poi proprio impero ma se devo tornare su rp io non ci vado su impero una madonna se me pagano se me pagano forse ci torno forse forse allora ah qua praticamente ma sopra non c'è nient'altro può essere che sopra non c'è niente io la vedo però una devo andare la io a tirare la leva quella e come ci arrivo la d'acqua sotto schifo non mi da più stimoli adrenalina non mi da più niente capito è quello il problema da davanti c'è un percorso è quello il problema non mi da più stimoli non ci sta più niente non ci sta più capito quella quella voglia quella adrenalina quella carica quella quella roba che c'è un tempo capito anche ieri stavo a vedere lì alcune robe io fin quando ci stanno certi streamer dentro dentro impero io non ci vado mi dispiace quando li cacciano via ci torno allora qua andiamo qui hai i uzi i uzi colpi uzi dici tu dici i uzi come i colpi colpi o proprio l'arma io non lo so ma ma porca bestia non era una leva questa ma questa non era una leva quelli sono i colpi ah l'arma e come faccio ad andare a prendere e come fai cioè non posso volare e non posso volare come faccio a volare impossibile qui io ancora non ho imparato a volare qua sulla schiena della sfinge sì ma lì come faccio quella roba lì davanti da qua è da dove sono venuto no? sì da qua è da dove sono venuto eeeh io credo che ma ragazzi io ci metto poco a ritornarci eh se uno mi spiega dove io ci metto veramente poco là ci stanno altre cose comunque altre piattaforme ma il problema è capire come ci si arriva lì ok qua che cazzo è no no io qua non ho capito un cazzo al volo le devo prendere non ho capito al volo quanto costa la remaster è da eh costa costicchia 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 non tantissimo ma comunque c'ha un costo 25 26 però è primo primo secondo e terzo eeeh con le uzi allora qua salvo eh vabbè oh sto sparite no non ce li credo ma che cazzo mi stai a dire ah no eccole cioè e questo è impossibile qua eh cioè io capisco tutto ma ancora non ho trovato il modo per volare qua minchia e questo so bone e questo so bone na madonna è Grazie a tutti. Grazie a tutti. No? Credo. Eh, di qua ci si arriva, per forza. Eh sì, da lì, tic 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 tic, e lì, e poi si va di là, in qualche modo. Credo che si passa di là, no? Credo. Penso. Eh, non lo so. Ah no, aspetta, sotto però ci abbiamo pure... Marca puttana della madonna. Sotto ci abbiamo pure un'altra roba, ci abbiamo. Qua sotto. Un'altra... Aspetta, aspetta, dopo ci vado. Non è, Dio. Esatto, devo andare sul posto dove ho aperto, esatto, là. Sul posto dove l'ho aperto, là. Voglio andare a prendere i colpi questi qua sotto, però. Se ce la faccio. Il problema è che c'ho una manualità di umbra di buu, porca puttana. Allora, perché non ti ammazzi, ma te? Nel gioco. Allora. Ma da qua, com'è cazzo se scende senza prendere danno? Ah, sì, sì, è vero, me lo ricordo. Adesso me lo ricordo. Cazzo, mi dispiace tanto, me dispiace, cazzarola. Mi dispiace tanto, è vero. Per quali console? Tutte. Sta su Steam, su Play, credo. Su Steam c'è sicuro, perché io l'ho comprata da lì, l'ho comprata. Poi non so se stanno pure da altre parti. Qua dietro c'era una cosa, vero? C'era un buco aperto qua. C'era una voragine aperta. Fammi salvare che è meglio, perché se no qua se veste il mio pure la Madonna. Porca troia, che t'è qua? Non so chi è che abbia inventato sta roba, ma... Ti giuro che non so quanto... Chi è che ha inventato sta roba, ma... Sicuramente è una persona che... Non dico che... Non è che non c'è stata testa, però... È da fuori di testa. Su PS5 lo compri a... Ah, ok, ok, non è buona. No, qua l'ho pagata di meno 25, 26, 27... Non mi ricordo quando. Allora, da qua non si passa. Ok, quindi qua penso che sia un Vigolgeco. O per salire dall'altra parte qua. Quindi se caschi di sopra... Se caschi di sopra... Cioè, c'è il modo di tornare su, ok? Perfetto. Mi mancava... Mi mancava questi giochi. Una Madonna... Andrò fino a 90. Sì, sì, ma prima era questa grafica... Dicevi prima. Prima era una grafica veramente eccezionale. Proprio, quelle proprio pesanti, cazzo. Dio Cristo, qua... Aspetta, fammi rimettere un attimo la grafica normale che sono qua. Non ho capito come devo fare qua. Allora, qua innanzitutto era via unica, giusto? Di qua non c'era nient'altro. Cioè, non è che da qua si passa da qualche altra parte, ok? Qua si entra. Quindi per forza qua, dritto per dritto, poi devo andare tipo... E niente, c'è quella specie di discesa! C'è quella... Prince of Persia? E non... Non mi dice niente Prince of Persia, ad essere sincero. Non come Tomb Raider. Non come Tomb Raider. Allora, qua... Credo che dovevo andare lì a destra, ma com'era? Era lì sopra la piattaforma, giusto? Allora, qui ok, va bene così, va bene. Porca bestia, io non so dove cazzo devo andare! Non lo so! Qua, fammi caricare, fammi salvare qua. All'indietro devo andare? E poi mi appendo? Mi pare di aver visto un posto dove posso appendermi. Credo. Oh, tanta roba così, GG. Ahah! Eh, vedi? Eh, alla fine forza deve essere mia... Ma io penso che chi... Cioè, ci stanno certi che veramente... Ho visto certi youtuber su... Su YouTube... Assurdo... Che fanno sti livelli in pochissimo tempo. Come fanno a farli in pochissimo tempo? Che io, la prima volta che ci gioco, è impossibile. Sanno già tutto, tutti quanti i passaggi, tutto. È impossibile. Secondo me già l'hanno fatti. A voi se l'hanno fatti. E io invece qua sto a scoprire tutto passo passo. Buono, la chiave! Questa... Questa me la piglio molto volentieri, la chiave. GG. Qua sotto ci sta una chiave e questa... Questa me può tornare utile. Non so che cazzo serve, però... Va bene così. Eh, no, 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 no. Te prego. Eh, che coglioni. Quando me sbaglio a preme guarda una cosa... Mondiale. Allora, perfetto. Esatto Tipo subnautica o cose così Che lo fanno Vabbè sì ci stanno persone che sopportate Per fare queste cose qua Indovinelli le robe Però io Ma raga è proprio zero Cioè nel senso Non ci vuole tempo Non è semplice Qua io devo saltar lì giusto? Meglio salvare Porca troia Perché non ti appendi Sto pezzo di cazzo Dio cristone Ora No Ma te hai riapeso Che cazzo fai Porco demonio Porco Ah no Qua ci sta la leva Qua Ah ci sta la chiave Ecco che serve la chiave Ecco che serve Meglio salvare Porca bestia Oh ma ci sono finito quasi tutti i colpi Porca puttana Cioè Oh 200 colpi Per mazzar un porco di Dio Qui Non mi fate bestia Ma Cristo Dio Santo Dio Ok So sicuro Che adesso succederà qualcosa Che mi farà Un gendario da squagliato vivo Ma che ne so Ok adesso devo tornare da capo no? E devo andare a mettere sta chiave Cioè quella chiave serve per aprire Quella roba lì che dico io Ovvero Quella roba su Dietro la sfinge Quella roba lì che abbiamo visto prima Vabbè fino a qua è semplice Dai non è difficile Qua è solo un po' Una rottura delle palle Per Non serve risalvare Tanto non succede niente Guarda il gruppo fedeli di HS Ma te Sì sì dopo lo vedo Dopo lo vedo Un attimo che sto un po' Incriccato qua Qua secondo me Con il super salto Riesco a andarci Preciso Ormai Ormai ragazzi Non mi fa più paura niente a me Non c'è niente che mi fa paura Qua è perfetto Ok andiamo Vai vai GG GG Easy Vai Tomber E perco il diavolo Che dè qua Perché? Ok Io vai Easy qua Ehm come ci si andava dietro? Ah no era dall'altra parte Allora andalev Del solito Tutte le domeniche Con Enrico Quello sì Poi se volete Qualche ricetta particolare Sti giorni Ragazzi mi sto dedicando A Tomb Raider E non c'ho proprio Il tempo materiale Per fare altri giochi Cioè altri giochi O altre cose Perché mi piace proprio Giocar a Tomb Raider Voglio portare Voglio finire Prima cosa il primo capitolo Poi Il secondo E poi Tomb Raider 3 Vediamo Poi vediamo Cioè Tomb Raider è veramente Un Un giocone Secondo me Mi piace troppo Eccala là Oh Dai un po' E mo mi sono rotto Un po' Di coglioni Perché? Meglio risalvare Di nuovo Trovi La mascella Che dolore Andiamo DG Ah E se apre la Non si è aperta Che cazzo Mi stai a di E a destra Come ce vado là? Là sopra Là Come ce vai? Cioè là Secondo me Un buco Ah Lì sopra C'è il coso lì Dritto lì Poi vai lì Poi vai Quassù Sì ma qua dietro Non è aperta ancora La spinge qua Ma era aperta o no? Ando fe Allora RP non è che Non lo faccio più Stava diventando Un po' troppo Monodono Ho lasciato verde Perché non Non mi divertiva più Tutto lì Così come GTR è più uguale Cioè Una cosa Cioè secondo me Alla base C'è che sta il divertimento Le risate Le ride E Te deve proprio piacere E non mi stava più a piacere Nulla del personale Allora Da qua Se va dritto Per dritto Giusto Easy Ok Meglio fa col super salto Non si sa mai Anche perché Ti rifai salti Quattro o cinque volte Non è che C'ho tanta voglia Certamente Vabbè dai Staparte È bezzato Corco Dio Vaffacono Vaffacono Te l'ha morto Della figa Della madonna Paura Paura De merda Che paura Mi sono cagato sotto Mi sa che mi è scappata Da una palletta Dentro il culo De merda Fanculo Madre santa De dio Oh Mi sono cagato sotto No da qua Non c'è Salviamo che è meglio Che non si sa mai Tanto qua Sto sicuro che prendo Ok Uh Meio risalvare Ok Adesso apri la porta Perco diavolo Te pareva la madonna Vabbè Mo piano piano Comunque ragazzi Non so se siete d'accordo Con me Il gioco più bel Stavo dicendo Il gioco più bello Che ho mai portato In vita mia In stream Uncharted Non so se siete d'accordo Con quello che ho detto Uncharted Il gioco più bello A livello di storia Di tutto Ovvio Storm Raider La storia Che cazzo di storia è Non c'è niente di storia E più tutti enigmi Cose Che però Te fanno ritornare indietro Veramente Dei tanti anni Chiude Ecco Troia Quando dico Che era una trappolona qua Era una trappola Grazie Zappa Un bel massaggio Pro statico Medio salvato Meglio salvato Proviamo Lo scubì HS S Dai però Non si può Cuci Dai Ok Andiamo 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 Allora dritto Poi dritto Dobbiamo tornare sopra Giusto Oddio Adesso 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 come c'è Se torna Di qua Sì sì era di qua Che dobbiamo andare Tipo là sopra Là vero Là c'era la porta Se non erro Se non erro Non mi vorrei sbagliare Caputana Se c'è qualcuno Se c'è qualcuno che mi vuole Magari aiutare In giata Metal Gear Solid Eh 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 Bello Bello Madonna Un capolavoro Oh Mio dio Che botte vivende Che so Ma che sta E' però Bello Dai Non è male Cioè Alla fine Scorre Adesso sta scorrendo Proprio Per bene Tomb Raider Io non so Se vi ricordate Tipo Ieri Che già Era più All'inizio Era meno sciolto Era più difficile Più difficilino Per me Adesso invece Va proprio La grande Sta andando Ci sono Cresciuto Questo gioco Sulla ps2 Ma quant'era Difficile Raga Porca bestia Invece qua Su pc Cioè Mi sembra Più facile Qui Su Però come Dicevamo Anche su San Andreas Uguale Stessa roba Non è che voglio Ripeta Sembra la stessa roba San Andreas Uguale Infatti Mi ricordo Che San Andreas Era molto più difficile Rispetto a Tom Raider Cioè Era molto più difficile Rispetto a prima San Andreas Però No Non Che pensare Invece lì Non era lì Sì sì Era qua Era qua Era qua Era qua Ma io salvò Ma te Non fare l'eroe Dopo andiamo Su marvel Lo sapevo io Ma io lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Inutile che stavo A fastusarlo Merda qua Allora qua Perfetto In cucina Eh ditemelo voi Cioè Dipende da voi Soprattutto che ricetta Facciamo Ma tu dici In cucina Con Enrico No aspetta Mi sono perso Dove era il Ah là sopra Là sopra Sì 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 No così va bene Tu dici In cucina Con Enrico O in cucina In generale Porca Allora Prima di saltare Devo premere Prima devo premere Il salto E poi vado in avanti Perché se io faccio Tutte e due insieme Magari a volte Non va Quindi devo premere Uno e uno Devo fare Ecco In questo modo Infatti Così va bene Eh Risalvo Lo svingione siciliano Oddio ma questo Io già ce l'ho Io questo Già l'ho fatto Allora qua Penso che devo Devo aprirlo Da sta parte E poi Immagino Che Devo salire su Uno Ma non c'è Una botola Qua Da quest'altra Parte Penso che ci sia Una cosa Qua no Non è Impero Sul congenaro Non ci vado Manco se Manco se Cala la madonna Pecorona De dio No no Meglio cambiare un attimo L'arma Metto Le magnum Ambo si Ma porca Troia Come cazzo Si fa Sto cazzo De marano Vaffanculo A me Sono finito Tutti i corpi Delle guzzi Pezzo De merda La Ok Adesso De quello Che ci faccio Praticamente Ah praticamente Dall'altra parte Giusto Quindi uno Servire da una parte E uno Servire dall'altra Perfetto Andiamo Risalva di nuovo Mattei Perché non ci sa mai E adesso Andiamo Quindi in teoria La spinge è finita Qua Il livello No In teoria In teoria Il livello è finito In teoria Ovvio In teoria Ok Passetto indietro Ok vai GG Le uzi In tombraider No 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 Forte Nette Quei gennaio Ma manco Se cara La madonna Pecora Vai Mo se apre La porta Sotto Perfetto Andiamo a vedere Eccala Una bella botta Così almeno Chiediamo una piccola curata Medikit Pack Medio L'unica Precisa L'unica pecca De sto gioco Che secondo me Dovevano Diciamo Sistemare Se potevano Se lo facevano Era proprio il gioco Perfetto I salvataggi Secondo me È la cosa Sui salvataggi Bisogna un attimo Rivedere i salvataggi Dovevano limitare I salvataggi O magari mettere Pochi salvataggi O magari con Dei checkpoint Al posto Dei salvare Al posto Di salvattaggi Mettevi dei checkpoint All'interno del gioco E il gioco Lo rendevi proprio Perfetto Udio Che è qua? Ma che è? Meglio salvare Dite? Notte Mario Sbrosse Buonanotte Ciao a bello Buonanotte R.A. Nubis Eh la Nubis Qua Non lo so Il dio del sole Chi era la Nubis? Il dio cane era Se non ero La Nubis Era il dio cane No? Non era il dio cane? Non era un dio? Io non ho studiato Però Io mi ricordo Che era tipo Il dio cane Ti pareva la madonna Mi dissocio Dalle nere Ah eccolo Ci sta la leva Lì sotto Ok È solo che Devo prendere Un po' di fiato Perché Se non prendi fiato Qua dopo Muori subito Qua ci sta la leva Bella leva Bella leva Ok Ma la precisa Perché non me la fa Prende? Ok Quindi ci dovrebbe Essere un modo Per togliere l'acqua D'entrìa Ok Dove siamo? Quindi in Doria Siamo No Siamo ad un'altra parte Che non dovevamo sta qua Siamo ad una parte Che non dovevo sta Lui qua Io Non è facile La situazione qua Cioè qua Non serve a niente Praticamente Boh è solo Per Confondere No no Cazzo Qua non ti fa proprio Entrare dentro Eh Non ti ci fa andare dentro Per forza qua Quindi Dovrò salire tipo Su una di queste piattaforme Credo Tipo qua sopra Per forza E' logica E' logica Se non ti fa andare là E ti fa andare per forza Per qua Per forza Eddio Allora Buonanotte Greco Buonanotte Buonanotte Ciao bello Buonanotte Orco diavolo Dai E dai E su Ok Sì ma a parte tutto Come stiamo andando? Dio Sto andando bene Oppure sto andando male Troppo lento Non lo so Troppo lento Sicuro Quello senza un predubio Lo so Penso là sopra Vabbè Allora Dillo questo coglione Allora Dillo questo coglione Dillo che so coglione Che so un coglione De merda Proprio Sei coglione Il gioco Se per sé E' lento Vabbè Però pure io Sono lento Cioè io ieri E' arrivato Luigi Di VR Mi ha detto che L'ha finito C'era uno Che l'ha finito In In pochissimo Perché l'ha finito Perché l'ha finito In pochissimo tempo Allora Magnum Chi c'era? Che gusto Che gusto c'è finito Che gusto c'è finito in poco tempo E' la brava Brava Vai Lara Ok Andrà un'altra Ok brava Taccate un po' sto bezzo De gazzo Lange niente Ok Qua sotto C'è qualcosa Ok quindi devo andare là sopra Bello perfetto Ok Lara mi hai fatto un bello piatto De facioli Porco dio Che la figa di mamma da però quella grande sbocchinaccia della madonna Ok che culo Eh che te urli porco dio Pensavo che fosse successo chissà che roba No 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 Do cazzo vai oh porco dio Do vai Oh che ti si sveglia Si sveglia da fredda porco madonna Do vai Fan culo me si Ho tirato le scorreggi porca puttana E levate tu e ste pere nere Ma qua sotto che c'era qualcosa Devo salvare Salvo Lì penso che sia un salto tipo Così Si un salto così Per n'affanculo Per morire Perfetto Ok Andiamo a tirare sta leva Ok Vado in bagno Arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non se rompe Come fai a saperlo Ciao l'usecchio da gaming Ragazzi Ciao l'usecchio da gaming E pisciù dentro l'usecchio Poi Come faceva mio nonno Uguale Stesse tradizioni Mio nonno sarebbe fiero di me Ah se non erro era qua giù Vero Era qua giù Ma non mi vorrei proprio sbagliare Diciamo Credo che fosse qua sotto Vero a sinistra A destra era da dove sono entrato Invece a sinistra Nonno gamer Eh no Perfetto GG Cioè farlo tutta una tirata Senza mai sbagliare Un colpo è Bello difficile Perché c'ho come L'impressione che tra poco C'è da sparare Vabbè Vabbè Sia per salvare Sia per salvare Che per caricare Madonna Sulla PlayStation 1 Andava piano piano Non so quanta rama c'aveva la PlayStation 1 Ma si parla proprio de mega De mega Cazzo Oh Buona sta pietra Che è la pietra quella iniziale C'è la pietra quella iniziale giù Cerco Dio Chi d'è Ma la fega della madre La fega di mamma Da porca De quella madonna Puttana De quella madonna Porco Dio Porca madonna Porco Dio Porca madonna Tutti gli angeli dentro la colonna Porca madonna Porco Dio Ma che dè Dimmelo prima No dai Mi fai calare tutti gli santi Porco Dio però E dimmelo prima Mi fai calare tutti gli santi Mi fai calare Su Ma che non salvi La madonna Non salvi Ma penso pure Che il numero di salvataggi Era limitato Perché C'era proprio Dentro la memory card Penso che non ci stava Più il tot spazio Scusate le bestemmie Eh Mi sa che me l'ha dati apposta I caricatori Eh si Guarda Ma non li posso Sparare da qua No E allora qua si salva Qua si salva Vediamo un po' come siamo messi con vita Benone C'abbiamo 16 medikit piccoli Passiamo Ok Salviamo Risalviamo la partita Andiamo a prendere Pistole Ho fatto dei fucile a pompa E' buono il fucile a pompa Contro sti madoni Oh ne so tanti eh E ne so tanti cazzo E ne so tanti Vai Porca vecchia Oh E allora andiamo di Magnum Che è meglio Andiamo sul classico con le Magnum Madonna A parlare di Magnum mi viene fame Perché quando parlo di Magnum Mi viene in mente il gelato La figa di mamma No no niente niente non ci posso No 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 Devo andare per forza dritto per dritto qua Allora Magnum in mano Magnum in mano e bestemmie Pronte vai Tutti i santi Allora devo capire come si fa Per schivali Arco Dio Ah già stavo quasi per far Ci mancava un pelu di figa Della Madonna Ci mancava Ci mancava un pelu di figa Ci mancava Ah se può far Me posso caricare la vita Mentre colpisco Ok Ok Mazzano come caca Sembra le caca No queste sembrano le cacate Che quando caia caca C'è C'è Caia caca A pallette caca Sembra le No C'è morto Stacchito Dritto per dritto C'è morto C'è godo Dai GG Certo che salvo Una madonna se salvo Salvo che no E abbiamo pure risparmiato un botto di vita Ormai qua ragazzi Non mi fa più paura niente GG Più che enigmi ragazzi Ci vuole Più che difficile Ci vuole tempo per Per far tutto Ci vuole tempo Allora curiamoci un attimo Che abbiamo un sacco di cure Qua Oh Ti piace Lara Ok Aspetta come si chiama il salvataggio? Ancora santuario del medaglione Ok E dai eh E che ando a vedere Mi dà un testo di cazzo E questo che c'avevano? Non c'aveva niente Niente Questo serviva solo così Per rompere i coglioni Oh GG Bello GG Dai Un'ora e quindici Oh Sul tutorial Ci aveva messo tipo Un'ora No 50 minuti E io ci sono messo un'ora e quindici Alla faccia di quello che ha detto Che ci mettevo tipo Dei Luigi di VR Che mi ha detto che ci mettevo un sacco di tempo L'altro giorno Oh Ma che belle poccione che c'ha Ma che bella sbuciona Non mi piace tanto le faccia però Oh Chi è? Oddio Oddio Servizi segreti Ah C'è stato l'amu nero Quell'amu nero C'è stato l'amu nero Chi è questa? Voglia Eh Attendo che Questo mi sa che Te lo fa sentire di dietro Nel di dietro te lo fa sentire Eh Eh sì Cazzo E' amu L'ha uccisa? Cazzo Lara E adesso che fai? Madonna Che cavallo Hai visto? Minchia Madonna Che effetto grafico Effetti grafici della madonna E mi sembravano I cinematici E mi sembravano Veramente quelli veri Proprio realistici All'epoca All'epoca Mi sembravano realistici Dentro i cd Ricorda tutti i cd Ah eccola 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 Salta là dentro Salta Eccolo che salta Eccolo che salta Ecco che va Alla ricerca Eccola che salta E ole Sì è un pesce Bello grosso Che fammo Dorme? Cazzo 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 Si è messa a dormire Da dentro Si è addormentata Da dentro Si è addormentata Che madonna fa Allora salviamo Via Salva salva Ok Questo si chiama Sto salvataggio Come si chiama? Miniere di Natla Le miniere di Natla Io Miniere Miniere di Natla 13 su 15 Io Le miniere di Natla Salvo salvo Non ha senso una cosa In sto video Cioè quale Cos'è che non c'è senso Secondo te Cos'è che non c'è senso Secondo te Jet Pistol Ma io le canzoncine Non capisco Più di tanto Che se mette a dormire Eh vabbè Oh Sarà stanca Cazzo Beh in effetti Non c'è senso Perché Che senso C'è da dormire Magari era stanca Non c'è più le pistole Perché Ma Non c'è più le pistole Perché Devo fare una panoramica Ah ok Lì non ci si può salire Lì sopra Cazzo Ci sono messo dando Per trovare le uzi Fa un po' Vedi se da là Posso salire Sì sì Da là posso salire No Scherzo Da qua non si può salire No no Da qua non si può salire Vedi via Ritorno su una nave A prenderle Poi dormi un po' Ah 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 Perché mi stai Pia per culo Boh Ma che è un cantiere Lavori in corso Ma poi non ho capito Abbiamo fatto Ci siamo fatti Un bucio di culo Per aprire la tomba Poi c'era quelli Che stavano già dentro RS Cazzo è RS Scooter Dove cazzo Se basta qua No ragazzi C'è qualcosa Che non mi quadra Ah qua Devo spostare Lo secchio Sì 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 Queste si possono Tirare voi Vale dai Ovviamente Non è per di qua Che se va Quindi se non è per di là Che devo andare E dov'è che se va Certo questi cazzo Di enigmi Di merda Qui La cascata Tu dici che sulla cascata Sotto l'acqua C'è qualcosa Non ci ho fatto caso C'erano dei barili Ma non so Se c'entra qualcosa Oh Non faccio lo cazzo È vero Cazzarò È vero La cascata Sotto l'acqua No io non ci sarei mai arrivato Se non fosse per voi Ragazzi Se non fosse stato per voi Vabbè qua Che re E adesso Devo saltare tipo Eh le pistole Non ce l'ho Non ce l'ho più Le pistole Ah eccola E chi l'ha vista Sta roba Ma chi l'ha vista Sta madonna Qual'era la parte Quella sopra O quella Guardate là Quella mi pare Che era dall'altra parte Non qua Eh sì Dall'altra parte Ovvio Logico no Eh io mi metto Nei panni Di chi ha creato il gioco Normale Logico Dall'altra parte Oh sta cazzo De leva Mica ce l'avevo pensato Io a trovarla Aspetta un po' Dall'altra parte Che cazzo è? Ci sta una cosa di qua Non ho visto No qua è troppo alto Non ci arrivo Ok Vabbè Mo salto di qua E vado Buonanotte Buonanotte Ciao bellissimo Buonanotte Grazie mille Per essere stato qua Tanti ho sognato Mentre dormivamo Abbracciati Addirittura Eccola Eccola la leva Questa è la bella leva Tiro giù Ok E adesso Se ritorno dall'altra parte Mo piano piano Buonasera cicala Sì 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 ovvio È logico Ok Ok Vai Lara Vai Lara GG Ma di che è giù Non ho capito Domanda scomoda Su RP Che mi hai chiesto La domanda più scomoda Che mi puoi fare RP Devo andare là Non ho capito Ma qua non è Ma qua non è Una torretta Una torretta Cazzo è una torre D'osservazione Incredibile Una torretta D'osservazione Boh Andiamo là No Ah ovviamente No Servono i fusibili Che cazzo è Sono tipo Cose che ce le ho Mettere dentro i fusibili Che cazzo è Per collegare cose Mi fa piacere Per i colpi Della pistola Ma non c'ho più le pistole Quindi Eh Mettacco al cazzo Quindi Che è qua Qua non ci sta niente Eh Servono tipo Fusibili Tipo Che c'è Ma Curioso Quindi dobbiamo Trovar Sti tre fusibili In teoria E dove cazzo Li trovo Allora Qua è tutto chiuso Ok Qua Se apre Ammazza No Comunque le porte Le potevano fare un po' meglio Un po' meno squadrate Però beh Capisco Magari volevano Lasciare l'impronta Del vecchio Del vecchio Tomb Raider Uno sta là Ok I fusilli I fusilli Non i fusibili E mo' devo trovare il modo di andare a prendere quello lì E come fai? Ah Eccolo No Questo non posso andarlo a prendere così Così C'è un modo per andarlo a prendere? Magari dall'altra parte c'è una leva Che cazzo ne so La butto là eh Non lo so io La butto là Devo accendere il nastro Niente Questo non si può accendere adesso Un momento Più inquinata del mondo? Porca troia Andarci a fieri cazzo Qua non c'è niente via per andare sopra Quindi devo tornare indietro per forza Madre di dio È un cazzo del labirinto comunque eh Un cazzo Sante vicius Grazie mille Quattordici mesi di resabba Grazie Un bacione Ciao bello mio Ma sai che è troppo presto qua Quella che cazzo è? Te lo dico io Mi sa che Questa cosa qui C'è stato tipo una gru lì E questa qui Deve venire giù tipo Una carrucola In qualche modo In qualche modo Deve venire giù Eh Se deve venire giù in quella Quindi qua ci stanno Leva tipo No Già un cazzo Però abbiamo trovato Un medikit GG Allora lì da dove siamo venuti Allora lì da dove siamo venuti Da qua È da qua È da qua Da dove siamo venuti Quindi In teoria Andare a saltare giù È un suciglio Perché saltare giù E significherebbe Ammazzasse Praticamente E allora dove cazzo Devo andare Qua a sinistra Avevo visto tipo un buco È l'unica parte Dove non ho visto ancora È qua Devo trovare il modo Di andare lì sopra Cioè Non vedo altre Non vedo altre soluzioni No Non è qua No Io lì devo andare Però io mi metto sempre Nei panni Di chi ha creato Sto gioco Se mi metto Nei panni Di chi ha creato Sto gioco Io dovrei andare avanti Quindi dovrei andare Qui io Ah Era così facile Vabbè Chi cazzo è? Eh Dove è andato Mi padre? Dove? Dai un amico su Ma? Ma che stai a scherzare? Ma che mi stai a pia Per culo dai Dai Che cazzo Dai ma veramente Vabbè Vabbè Oh Oh L'abbiamo capito Che la sinistra Tanto Ormai L'abbiamo capito Quindi devo andare dritto Per dritto qua Niente Niente da qua Non si va L'unica cosa Che devo salvare qua Devo salvare assolutamente La partita Quindi Maggrappo sto pezzo De cazzo E poi devo farmi indietro Appena parte Risalviamo? Risalvo la partita Ok Che cazzo ci sta qua? Ma? Chi è che spazio? Oh cazzo Lo magma ci sta Ma che stiamo dentro? Dentro Aspetta Come cazzo fa Stacci lo magma? Impossibile Non può esserci il magma Di Ok Mazza Che belle chiappette Vabbè Allora Mi ricarico la partita Quindi per forza da qua E se non è uno Sarà l'altro No? Ok Da qua Se passa No Do cazzo No Aspetta Ah da qua non è Da qua non c'è niente De là ci sta lo magma Qua sotto? Raga Raga io giuro Che sto impazzendo Qua io non so Proprio come fa Vabbè Mo qualcosa trovo Cioè Una soluzione Mo la trovo Se non è là Sarà qua Per forza No Qua sotto Io non ci posso andare La dovrei andare Ma è follia Grazie 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 mille Bellissimo Un bacio enorme 3 euro Grazie mille Bellissimo Grazie Oh la madonna Chi è che ha abbassato Qua il volume Ok Grazie mille 3 euro 7 vicius E se ho salvato E se ho salvato Come si fa Riavviare il livello Non puoi riavviarlo Devo tornare a capo Ah ho capito Quindi me lo fa Fai ogni volta Da capo Ah Uuuuh Io pensavo Quando avevo tornato Al faraone Porca Eva Sì no È impossibile Ma che cazzo Mi stai a dire Dai su Ho capito Non mi fa passare qua Ma che cazzo Stava fa Sì comunque Ho capito Come si fa Praticamente Devo andare Lì sotto Ho capito Ho capito Ciao pardo Grazie mille 30 mesi De resabba Grazie 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 Ok Madonna che paura Ragazzi Io pensavo che veramente Dove si è ricominciato a capo Invece Invece no 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 Sta fregno Di dio Praticamente funziona pure Eh io volevo un cazzo Ho capito Quindi è una corsa A ostacoli Ho capito È una corsa A ostacoli Continua Chiaro 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 Tutto chiaro Perfetto Allora devo andare sotto Eccola Bellissimo Ma pure quella là È partita già Ma sei buggata Oddio Mo' ci manca solo Che sta buggata O la madonna No te prego Non mi dico Che sta buggata Dai dai E qua Ma che cazzo Perché Ma non è possibile Che sei buggata Dai su Ma che cazzo Mi stai a dire Ah forse dovevo Scendere lì sotto Ok ho capito Qua salviamo La partita Ok Vaffanculo Magna me Lupi sellone Magna me Porco diavolo Vai GG Porca Eva Vai vai Salviamo Che è meglio Via Oh Eh bisogna Stare attenti Perché qua Non è che Si vede tanto bene Sti cosi Sti fregni Della madonna Sti supposti No Sto per Curso Della madonna Madonna Sembra che qualcuno Sta a sparare Eh se ce lo sai È una cazzata Eh però Se ce lo sai Se ce lo sai È una cazzata Sennò Tanta cazzata Non è Ok va Ok quindi Un possibile Abbiamo trovato Uno E gli altri Cioè sicuramente Mi sbloccherà Tipo qualche parte Dai Qualcosa Mi se sblocca Come ne metto uno Se sblocca Qualcos'altro Per forza Dai Come ne metto uno Se sblocca pure gli altri Sennò non avrebbe senso Beh forza Oh Non hai paura Madre santa Di dio No Aspe Cazzo Stanno Io credo Che come lo vado a mettere Ah non è per di qua Io credo Che come lo metto Uno Già parte la macchina Per 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 un rullo Vado a prendere Il secondo Poi il terzo Penso che sia Il carrello All'inizio Cioè Questa se può spostare qua Può spostare questa? Sì A che serve spostarlo? Se ce l'hanno messo Un qualcosa serve Per spostarlo Ah io una mezza idea ce l'ho Praticamente devo spostare Il coso Verso là E se lo sposto qua dentro Io praticamente posso salire Lì sopra Là Credo Altrimenti C'è un passaggio Tipo qua sopra In qualche modo Qua sopra c'è tipo Un passaggio qua Tipo lì sopra Lì che non vedo Qualcosa che non vedo lì Bu Muoviamo Intanto ne vado a mettere uno Così almeno sblocco Oppure credo che Come Come apre il fusibile Se Si sposta un po' di più La para Credo Non lo so eh Credo È logica Ma dopo questo lo posso riprendere Oppure una volta che l'ho messo Niente Zero è andato È andato per sempre Perfetto No Eh lì penso che sia alla fine Dopo Più avanti Allora andiamo a vedere La parte del Lì Del Se si è girato Il ponte lì Secondo me si è girato Altrimenti qua ci sta un altro modo da fare No Ma vanni Quello cazzo che te se frega qua Che E allora qua c'è un altro modo per Per prenderlo per forza Devo attivare il rullo E come si attiva sto cazzo del rullo Qua si apre la porta Se non mi è vicino Ma vanni La cassa Quella di prima Dici La cassa Quella di prima Quella di prima Là Un senso ce l'avrà Quella cassa lì Che si muove No Non penso che Che l'abbiano messa qua Cazzo di cane Un senso ce l'avrà Dai Madonna Fa certi orgasmi Questa Quando 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 cammina Da paura Alca puttana Qua non ci sta andando E che son nato ieri E che son nato ieri E certo che lo so io Non mi sa il vago E qua mi sa che ci sta le bestemmie Mica son nato ieri Mica son nato ieri Bello Ok Adesso Che faccio con la barca Ok E che ci faccio con la barca M'ha attivato pure Lo carrello per il fusibile Oh M'ha attivato Il carrello per quello In fusibile E non lo so Se m'ha attivato Quello è tanta roba Riesco Ma vanno E allora andiamo a vedere La barca Sento acqua Perché? Salvo? Intanto salvo Sì c'è per sicurezza E non lo so Secondo me Ha attivato qualcosa Alla Non lo so Il carrello all'inizio Può essere? Ah Sì c'è per Anche andà qua serve per andà hai capito serve per andà qua è certo qualcosa c'era eh per forza eh a qualcosa serve che è qua sotto la nasa porca puttana che cazzo ci sta qua che è nasa technology natla technology risalvo di nuovo si si risalvo perché rifasse tutto da capo quello cazzo che te se frega che faccio colpi ma che tutto sto accricco qua solo per un paio di merda di colpi solo per un paio di colpi merdosi porca Eva ma è incredibile guarda qua questa cazza qua che serve non serve niente questa niente non serve niente che praticamente non serviva un cazzo la barca non serviva niente cioè quello mi sta a dire che la barca non serve niente però dai avrà attivato qualcos'altro dai che cazzo dai qua il carrello quello all'inizio dai sicuro no no nemmeno ma che cazzo me stai a dire eh c'è un passaggio dentro dove ma io non l'ho visto un passaggio dentro dove qua una parete da spostare dentro ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito sicuri ma veramente cazzo questo non c'è infatti io dicevo ma cioè ma qualcosa la barca cioè i creatori l'avranno creato apposta cioè dai questa parte non penso che era solo per i colpi cioè tutto sto clicco qua ah sta parete qua sta parete malata sta parete infelice no no questo qua è il primo eh no dai ma te che c'hai 500 di buzze in delettivo porca puttana fa sta roba fariti dai che cazzo a volte sembro stupido non lo so ok questo per esempio lo spingo così faccio spazio a quell'altro dai dai uno da una parte e uno dall'altra però se ce ne sta un altro ancora da spingne è un problema no no ok oh adesso questo che fa Matteo Lucarrello dai oh bello mi piace andiamo quei bei quei bei enigmi di una volta che mi sembravano tanto impossibili no ma in realtà è solo grazie a voi in giotte che mi state a consigliare perché altrimenti qua stavo a bestemmi ancora 40 santi a voi ciao meglio salvati te lo salviamo ok questa questa fa male se la tocchi questa fa male che cazzo è ma che cazzo ci sta la cadena la luce illuminata dal Gesù Cristo perché è illuminata ah perché ci sta sopra qualcosa ovviamente ci starà qualcosa di importante credo eh gg lo sappiamo però alla fine non è cioè non mi sembra così difficile come quando ero quando ero piccoletto porca puttana cazzo è un po' di suspense minchia ma stiamo dentro proprio la lava eh poi come fa a staccer la lava se ci sta il nucleo oh bello secondo fusibile questo mi piace che te racconto qua come te faccio che te faccio qua e come te mazzo con la madonna e come te mazzo con la madonna che cazzo gli dico lì non l'ho abbassata big one sei sicuro guarda vado a controllare per sicurezza perché preferisco fare due minuti in più così che bestemmia dopo guarda che l'ho ah come fai se vabbè parte uguale l'aria basso dai guarda non hai granate non c'ho niente zero e do cazzo scappo qua sulla madonna dove cazzo devo scappare dove devo andare bastardo oh me mazzo faccio prima bruciata ma dove cazzo devo andare no qua è impossibile qui e dai però non mi rompere i coglioni dai ma sto a vedere come posso fare bene che che iffs ain't nothing personal Allora, praticamente, là io ci posso andare, là? Là sotto non penso che ci si può andare, devo tornare indietro, praticamente, dite che mi ha aperto, ah, è vero, mi ha aperto una nuova porta, mi ha aperto una nuova porta e devo, praticamente, devo andare, esatto, 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 A parte c'ho, c'ho lo fusibile nuovo, c'ho, io devo andare avanti qua, oh, io c'ho lo fusibile nuovo, c'ho, no, ma io c'ho lo fusibile nuovo da mettere, prima cosa, ma in caso dopo c'è il ritorno, non è un problema Dov'è che dovevo andare qua, non mi ricordo Ah no, qua era la sotto, sotto l'acqua Ah sì che lo ho preso lo fusibile, o? Ah no, perché? Ah sì che lo ho preso, non lo veo preso Ah sì che l'avevo preso Ma sì che l'avevo preso lo fusibile Solo che questo non me lo porto avanti per quanto tempo ancora? Ma non me so scordato L'ho preso è possibile, davvero Solo che qua non mi ricordo come si fa sopra Devo andare sotto Ok sì, devo fuggire Fin qua, fin qua ci siamo Ma io non mi ricordo come si fa sopra Cioè, dall'acqua credo Dall'acqua si andava lì sotto C'era un buco nell'acqua credo Se non erro E da qua si va avanti, no? Ok Ok, running simulator Ok, GG Andiamo a mettere Andiamo a mettere un fusibile Perfetto Andiamo a mettere un fusibile Andiamo a vedere che roba è Ok Fusibile messo Quindi Non era come dicevate voi Che Ha aperto la porta questa qua Dove sta il carrello, no? Grazie Andrea D.P. Ciao bello, grazie Ha partorito tu, sorella? Oh Mi fa tanto piacere Mi fa Mi fa tanto piacere Quindi si è diventato zio Più o meno Non lo so Io tiro giù la leva Lo rullo Andato avanti lì, no? Perfetto GG E adesso Via metto il terzo fusibile Andiamo a vedere che succede Quello lì Io penso che non posso Non posso farci niente Su quello Al momento E non c'ho le armi Mi sa che le armi stanno Qua sopra Se non erro Mi sa, eh Cioè vado intuito Vado intuito Credo che le armi stanno O stanno qua sopra O da un'altra parte Non lo so Ciao C.Gapri Ciao bello Grazie mille Mi bacio enorme Buonasera Robit Come sto? Alla grande E invece Come stai? Bellissimo Grazie Ma te ma quindi diventi padre? Ce l'ho detto No Ma che padre Eccole là Vedi? Ok E adesso Te mazzo io Io ho temato Boss fight finale